Musica Acqua all'alluminio abbandona la presa, revocata l'ordinanza di non potabilità, sotto controllo i batteri in zona nord, si pensa allo sconto del 10% in bolletta. Tangenti di appalti truccati, la forestale arresta 12 persone nel Viterbese, tra cui un imprenditore di Tarquini e rifiuti ed opere pubbliche nel Mirino, 26 appalti. Winsurf sono iniziati ieri i mondiali Yautat Taipei, il Civitavecchiese Mattia Camboni è quarto dopo il primo giorno di regate. E ben trovati dal telegiornale Alto Lazio, torna potabile l'acqua Civitavecchia. Ieri sera il sindaco Tidei ha revocato l'ordinanza alla luce dei risultati delle analisi che vedono l'alluminio ormai rientrato nella norma, da verificare la situazione nella zona nord, dove era stata riscontrata venerdì scorso la presenza di colibatteri. Intanto dal pincio si pensa ad uno sconto del 10% in bolletta. Sentiamo il servizio. È stata revocata nella tarda serata l'ordinanza di non potabilità dell'acqua emessa dal sindaco Tidei circa un mese fa. Sembra essere terminata finalmente la lunga odissea dei cittadini Civitavecchiesi. La decisione è stata presa sulla base dell'esito delle analisi dell'Arpalazio sui campioni prelevati il 18 ottobre scorso e della nota redatta come d'uso dalla ASL Roma F. L'alluminio è ormai rientrato nella norma in tutti i punti dove è stata prelevata l'acqua. Già al mattino l'assessore ai lavori pubblici Mirko Mecozzi aveva annunciato un miglioramento della situazione, ma attendeva i risultati ufficiali per poter esprimere piena soddisfazione e dare ai Civitavecchiesi finalmente la buona notizia. E la situazione è migliorata anche nella zona nord della città, dove a preoccupare erano stati invece i colibatteri. Siamo di nuovo intervenuti con l'aggiunta di cloro nell'acqua, aggiunto, per abbassare proprio la presenza di colibatteri. Intanto dal comune pensano ad uno sconto del 10% sulla bolletta per gli oltre 30 giorni di disagi subiti dalla cittadinanza. Un'ipotesi che non sembra però soddisfare se si considerano le centinaia di euro spese per acquistare casse di acqua minerale per bere, cucinare e lavarsi. Una magra consolazione per i cittadini e così, dal popolo della città, sono pronti a lanciare una class action contro il gestore. Alle famiglie Civitavecchiesi la mancanza di acqua potabile costa mediamente dalle 50 alle 70 euro, spiegano. E chi è deputato a garantire il bene primario per eccellenza alla popolazione, nulla ha fatto e nulla sta facendo per risolvere la situazione. Occorre essere risarciti del danno subito. L'associazione è disposta quindi a promuovere, con l'ausilio delle associazioni di consumatori e di legali, la class action. E' importante riunione oggi pomeriggio a partire dalle 15.30 a Palazzo del Pincio, tra i vertici del comune di HCS e i sindacati, per discutere del futuro della holding e in modo particolare del piano di riorganizzazione proposto per cercare di salvare l'azienda. Un progetto di risanamento che passa dalla liquidazione, cassa integrazione e eventuali licenziamenti e vendita di almeno il 40% delle quote. Non vogliamo fare macelleria sociale di 480 dipendenti, hanno spiegato dal comune. Il nostro impegno è quindi rivolto ad accendere ammortizzatori sociali a partire dalla cassa integrazione per 60-90 unità. Altrimenti dovremo ricorrere a licenziamenti per 50-60 lavoratori. Parliamo di ultimi arrivati e con minori carichi familiari. Ovviamente tutto questo sarà però oggetto della trattativa sindacale a partire da oggi per poter arrivare in tempi brevissimi ed inoltrare la richiesta di cassa integrazione straordinaria. E' 12 arresti di cui uno anche a Tarquinia per reati che vanno dalla turbativa d'asta alla corruzione per atti contrari a doveri di ufficio disposti dal giudice per le indagini preliminari di Viterbo. Questo è il bilancio dell'operazione scattata all'alba nel Viterbese e condotta dal personale del Nucleo Investigativo Provinciale di Polizia Ambientale e Forestale del Corpo Forestale dello Stato di Viterbo. Su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Viterbo sono state eseguite 38 perquisizioni presso ditte d'abitazioni, nonché 7 acquisizioni di documenti presso gli uffici pubblici. Le indagini condotte per oltre due anni dalla Forestale di Viterbo sono scattate in seguito alle intercettazioni eseguite nell'ambito di una precedente inchiesta relativa al pagamento di tangenti per il rilascio di nulla o sta paesaggistici. Dall'esame delle centinaia di migliaia di conversazioni intercettate al telefono, registrate negli uffici e nelle autovetture di alcuni indagati e dall'analisi di filmati realizzati con telecamere nascoste emergerebbe un quadro di diffusa corruzione turbativa delle gare indette sia da alcuni comuni viterbesi romani e ternani sia dalla provincia di Viterbo, con la complicità di pubblici ufficiali corrotti. Sarebbero infatti 26 le gare d'appalto risultate truccate nei settori della raccolta differenziata dei rifiuti, dei lavori stradali e della ristrutturazione di edifici pubblici per un importo totale superiore ai 12 milioni di euro. Tra le persone tratte in arresto questa mattina figurano due dipendenti dell'Ufficio del Genio Civile di Viterbo ritenuti presunti personaggi chiave dell'inchiesta, sindaco e assessore di Graffignano, quattro imprenditori di Viterbo, due di Monte Fiascone, uno di Tarquinia e due di Celleno. È sempre più convinto che l'area metropolitana sia la scelta giusta per Civitavecchia e il sindaco Pietro Tidei. Ne è così convinto che lancia l'invito a prendervi parte anche al sindaco di Tarquinia Mazzola e a quello di Cerveteri Pascucci. Cerveteri e Tarquinia con al centro Civitavecchia spiega Tidei costituirebbero il più importante polo dell'area metropolitana dopo il comune di Roma stessa. Parlo di turismo ovviamente, ma anche di logistica e di portualità. E torna a ribadire l'assurdità per Civitavecchia di andare con Rieti. Il decreto sulle nuove province annunciato dal ministro Patroni Griffi sarà pronto dagli inizi di novembre e non prevede deroghe e mette insieme i due ex capoluoghi. Per Civitavecchia significherebbe, secondo Tidei, recarsi a Rieti per una serie di adempimenti in IMSS. Due ore di macchina passando per Roma. Un'assurdità accorparsi a Rieti anche per Viterbo. un'ora e mezza di macchina passando per Terni, ovvero in Umbria. E consiglia quindi agli amici viterbesi la strada del referendum costituzionale per agganciarsi alla provincia unica dell'Umbria che dal canto suo come regione ci guadagnerebbe lo sbocco sul mar Tirreno, sul mare di Montalto. E i lavoratori della centrale Enel di TVN in assemblee a presidio convocata da CGL Cisley Will questa mattina dalle 7 alle 9. Centinaia di lavoratori si sono fermati fuori i cancelli dell'impianto per sostenere la protesta portata avanti da molti mesi delle sei lavoratrici che chiedono di essere riassunte nei servizi di primo soccorso all'interno della centrale. Un'avvertenza hanno spiegato i sindacati che si inserisce in una mobilitazione generale finalizzata a chiedere ad Enel, come a tutti i grandi attori produttivi ed economici del territorio, la sottoscrizione di un accordo contenente impegni per la definizione di gare di appalti che, superando la logica del massimo ribasso, prevedano clausole sociali a garanzia dell'occupazione in essere. Giovedì pomeriggio, nell'ambito della riunione sindacale dell'osservatorio che terremo con i dirigenti di Enel, torneremo a chiedere la disponibilità a sottoscrivere tale intesa e a risolvere tempestivamente e positivamente l'avvertenza delle sei lavoratrici. In assenza di risposte soddisfacenti, i sindacati si sono detti pronti a mettere in atto ulteriori forme di mobilitazione. Il prolungamento dell'orario di lavoro, il progetto di riforma degli organi collegiali, gli scatti di anzianità, il collegio docenti dell'Istituto Comprensivo Civitavecchia 4 esprime grave preoccupazione, indignazione e profondo dissenso nei confronti delle scelte politiche del ministro Profumo e più in generale del governo. Fortemente punitive, spiegano verso la scuola pubblica, caratterizzate da tagli di risorse personali, attuate in forme diverse, non sempre trasparenti, nonché da una martellante svalutazione della professionalità e della libertà di insegnamento. Il collegio dei docenti ha quindi approvato all'unanimità una mozione di netta contrarietà ai provvedimenti all'ordine del giorno dell'agenda politica e si dichiara disponibile ad attuare ogni forma di contrasto e resistenza in collaborazione, spiegano, con altre scuole del territorio per salvaguardare la conoscenza quale bene comune per restituire degnità al lavoro dopo anni di tagli a essenza di un progetto educativo complessivo. Teatro e beneficenza ancora una volta di pari passo al Traiano venerdì e sabato infatti va in scena C'è Pensa Mamma commedia in due atti di Gaetano Di Maio con protagonista la compagnia Anta & Go con il contributo della fondazione Cari Civi infatti la compagnia in sinergia con il Lions Club Santa Marinella Host Lions Club Civitavecchia, Riva di Traiano, Rotary Club e Fidapa offrirà lo spettacolo a favore delle associazioni Il Melograno ad Ammo e per il reparto di pediatria dell'ospedale San Paolo. Sentiamo le interviste. Un maratone di solidarietà importante non poteva mancare anche il Lions. Sicuramente sì, noi diversi anni che sponsorizziamo questa iniziativa che per noi è un service, così identifichiamo queste attività di supporto a iniziative volte al benessere dei cittadini eccetera. Lo facciamo ovviamente a scopo di beneficenza nel senso che gli introiti e il contributo che dà la fondazione verrà destinato ad una serie di associazioni tipo il Melograno tipo l'istituto di pediatria, il reparto di pediatria dell'ospedale civile e l'associazione Ad Ammo. Rotary è ancora una volta in prima fila in queste iniziative di solidarietà. Sì, come sempre noi siamo presenti nel territorio e ormai sono diversi anni che partecipiamo a questa maratona. Abbiamo cominciato ad assistere la Unitalsi, poi abbiamo fatto qualcosa per altri enti che in questo momento mi sfuggono. Comunque noi non ci tiriamo mai indietro quando si tratta di partecipare a questo tipo di attività. Fra l'altro sono anche un attore, un modesto attore della compagnia Ante Go e con l'occasione vorrei invitare, ci si sta ascoltando, a venire a vederci perché è una commedia molto molto divertente. Noi saremo presenti con una persona che si incaricherà di dare i biglietti già dal 23 del pomeriggio al Teatro Traiano. Quindi non perdete questa occasione perché è veramente una bella commedia. Anche la FIDAPA è in prima fila per questo spettacolo di solidarietà. Quanto è importante oggi avere questa sinergia tra tutte queste associazioni? Sì, è molto importante perché purtroppo in un mondo che si fa sempre più individualista la solidarietà tra associazioni soprattutto, nell'associazione e tra le associazioni. È una cosa molto importante soprattutto per noi che come associazione non siamo service come gli altri due, però abbiamo sempre aderito proprio perché iniziativa è importante e soprattutto sono sempre le motivazioni molto importanti. Riconoscere al complesso monumentale del castello di Santa Severa il carattere di bene di notevole e di esclusivo interesse pubblico è quanto chiedono Gino De Paulis ed Emiliano Minucci nella mozione approvata ieri dal Consiglio provinciale che impegna il presidente Zingaretti e l'assessore competente ad attivarsi affinché si istituisca un tavolo di lavoro tecnico-politico tra regione, provincia e comune di Santa Marinella per affrontare le problematiche relative alla definizione del futuro del castello in modo chiaro e condiviso, anche in riferimento all'accordo di programma del 20 dicembre. Il castello di Santa Severa e l'area archeologica di Pirgi, dicono De Paulis e Minucci, costituiscono un patrimonio storico-archeologico e monumentale di straordinaria importanza per il litorale nord di Roma e l'intero territorio provinciale e regionale che va valorizzato e salvaguardato da eventuali tentativi di speculazione privata. Nel documento approvato ieri chiediamo anche di riaprire il complesso monumentale alle visite guidate. E migliora la raccolta differenziata a Cerenova e Borgo San Martino. Alessio Pascucci, sindaco di Cerveteri, annuncia infatti l'arrivo di nuovi cassonetti di prossimità per la raccolta differenziata nelle due località e lancia un invito alla popolazione. Abbiamo risposto alle segnalazioni dei cittadini di Cerenova e di Borgo San Martino. Ora, in queste frazioni, sarà più facile fare la raccolta differenziata. La sfida è ridurre la quantità dei rifiuti che finiscono in discarica come primo passo verso una gestione virtuosa del ciclo dei rifiuti ed un passo che ci allontana dall'incubo delle discariche che continua a gravare sul nostro territorio. Collaboriamo per avere una città più pulita e un ambiente più sano e abituiamoci a fare bene la raccolta differenziata perché questo è il futuro verso il quale stiamo andando. Un ulteriore passo avanti è stato fatto, aggiunge Andrea Mundu, l'assessore alla tutela del territorio, anche grazie alla disponibilità dell'azienda Tecneco che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani nel nostro comune. Secondo gli accordi con l'azienda, infatti, è stata compiuta una ricognizione sul territorio e sono stati posizionati otto nuovi punti per la raccolta differenziata. È importante che i cittadini facciano la propria parte differenziando i materiali con cure, rimuovendo i residui organici. Carenza di farmaci. I residenti di Tolfa insorgono. Qualcuno ha già scritto delle lettere al primo cittadino per denunciare la situazione. Sono residente a Tolfa da circa 4 anni, scrivo una signora del posto che ha scritto al sindaco Landi. E ripetutamente accadono episodi che non sono più accettabili. Lo scorso 17 ottobre mi sono recata in farmacia per acquistare, mediante prescrizione medica, un antibiotico del quale me ne occorrevano due confezioni, una delle quali era presente, mentre l'altra doveva essere ordinata. Per cui è stata trattenuta la ricetta rossa. Ma ad oggi questo farmaco non è ancora arrivato su una cittadina che paga le tasse come tanti altri e che non trova giusto che nella nostra unica farmacia non venga fornito un servizio adeguato. A lamentarsi sono anche molti anziani e familiari di persone malate che non possono muoversi da soli. Anche per una sola medicina, spiegano alcuni anziani di Tolfa, siamo costretti a recarci alla farmacia comunale del paese più volte e spesso siamo costretti ad arrivare fino alla farmacia di Allumiere. Le famiglie quindi si domandano come mai nel paese limitrofo nel giro di 24 ore i farmaci sono sempre disponibili e a Tolfa non si riesce ad ottenere lo stesso servizio. Ed ora andiamo a Tarquinia, primarie del PD. Armando Palmini del Comitato per Renzi replica il sindaco di Tarquinia Mauro Mazzola. No, caro Mauro, non sono d'accordo. Sulle primarie del PD l'opinione pur autorevole del sindaco Mazzola è una delle voci del nostro partito. È noto che nel PD di Tarquinia sul rinnovamento della classe dirigente ad ogni livello esistono due scuole di pensiero, sottolinea Palmini, e il dibattito è aperto da tempo, come è noto che è diverso il rapporto con la nomenclatura del partito provinciale. Ti assicuriamo che il programma di Matteo Renzi lo abbiamo letto anche noi e lo abbiamo capito trovandolo ricco di contenuti e proposte. Le primarie sono uno strumento di democrazia, chi vi partecipa pone alternative e non cerca scorciatoie. Rinnovare non è solo una questione generazionale, sottolinea il portavoce. Va rigenerata una classe dirigente e ferma che dà per scontato il suo ruolo, senza confrontarsi con il partito e i suoi elettori. Ed ora parliamo di sport. Le prove disputate nella prima giornata del Mondiale Yacht di Windsurf in svolgimento a Pengu Taipei. Prima partenza, come da programma, alle 10.30 con Benton, ben steso da terra tra gli 8 e i 9 nodi. Tra gli uomini il primo a girare la boa di Bolina è il nostro Camboni. Alla fine della poppa, Mattia, che aveva un buon margine sul secondo, sbaglia l'entrata nel cancello, perdendo parte del vantaggio. L'italiano rimane nel gruppo di testa e chiude la regata in quarta posizione. Anche nella seconda prova, Camboni arriva a quarto. Le condizioni erano veramente difficili, è dichiarato Camboni. Il vento saltava tanto e anche la corrente era piuttosto forte, soprattutto nella prima prova. Non sono contentissimo delle prime partenze e so di poter fare meglio. E si svolgerà oggi l'atteso incontro tra il sindaco Pietro Tidei, il presidente del Civitavecchia Calcio Adriano Clemeno, ancora una volta in nodo della discussione, sarà l'aspetto economico, viste le incomprensioni che si sono registrate negli ultimi giorni. Ed ora calcio a 5, l'atletico Sacchetti, dopo il deludente avvio di campionato di C1, prova a rifarsi la bocca, scendendo in campo questa sera alle 21 al Tamagnini, per l'andata dei quarti di finale di Coppa Lazio. Civitavecchia arriverà alla forte formazione della Lazio. E per ora è tutto, prossimo appuntamento alle 19.45. Io vi ringrazio come sempre per la cortese attenzione, vi ricordo che il prossimo appuntamento appunto alle 19.45, grazie per la cortese attenzione, arrivederci.